E' nata la vetrinetta della Solidarietà San Cataldese. Si tratta di una raccolta di fondi tramite una vetrina virtuale di oggetti vari pubblicati a scopo di solidarietà. Il ricavato sarà utilizzato per scopi sociali. L'iniziativa è del Circolo Arci Attivarci Insieme con la Camera del Lavoro. E' nata questa vetrinetta della Solidarietà insieme all'attivarci il Circolo Arci di San Cataldo. Il Presidente Giuseppe Cammarata, che vuole essere a sostegno delle fasce più bisognose. Questa iniziativa nasce già a maggio per la fiera che si svolge a San Cataldo in collaborazione con lo sportello della solidarietà sociale messo a disposizione della Camera del Lavoro di San Cataldo. Abbiamo fatto diverse iniziative, adotta una famiglia bisognosa con un solo euro, abbiamo venduto dei gadget, abbiamo raccolto delle somme che sono state messe a disposizione per queste famiglie bisognose. Abbiamo fatto anche altre iniziative, abbiamo regalato due biciclette a dei bambini che non avevano la possibilità di comprarsele. Oggi con questa vetrinetta vogliamo allargare gli orizzonti a quelle che sono di dare un contributo infatti al disagio della povera gente. Ricordiamoci che oggi la povertà dilaga. Non è possibile vedere i pensionati, i disoccupati, gli esodati, tutte quelle classi sociali che prima vivevano una vita dignitosa, oggi si trovano a fare la spesa purtroppo aspettando che finisca il mercato per raccogliere qualche cosa da poter mangiare. La CGL insieme agli Arci vuole dimostrare un vero sostegno a queste fasce bisognose e quindi creare quel circuito di aiuto. Abbiamo fatto delle convenzioni, più convenzioni e delle disponibilità con dei medici che faranno delle visite gratuite agli anziani o delle visite specialistiche dove non potranno permettersi di pagarle interverrà lo sportello della solidarietà. Io voglio fare un ringraziamento a Giovanna Caruso che è la segretaria d'organizzazione per averci dato la possibilità di aprire questo sportello insieme a Nino Giannone che è il segretario generale del CGL provinciale per mettere a disposizione tutto quello che è veramente il sostegno del sindacato, la presenza dei lavoratori e la tutela dei diritti ma anche dei famiglie bisognose.